Un bel ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale con Trevimeteo.com. Una giornata di sabato che sarà ancora in prevalenza stabile su tutta l'Italia, i Balcani, la Grecia, ma anche la Spagna in compagnia dell'anticiclone africano. Gran caldo che si farà sentire al centro-sud, qualche temporale invece investirà a Svizzera, Austria ed Alcolpino. Ecco qui più nel dettaglio la situazione per quanto riguarda le precipitazioni sull'Italia, una giornata nel complesso buona con clima asciutto. Nel pomeriggio i classici temporali su Alpi e Prealpi e vicine pianure del Piemonte. Andiamo a vedere quindi la nuvolosità, un pochino di variabilità come sempre al ridosso dell'arco alpino, altrove invece ampio soleggiamento soprattutto sulle spiagge del centro-sud. Infine la mappa dell'Italia ci conferma una giornata di sabato buona da nord a sud, qualche temporale in montagna sulle regioni settentrionali, ma guardate il gran caldo che interesserà tutto il nord-est così come regioni centro-meridionali. Con questo per il meteo è tutto aggiornamenti su caldo e temperature, scaricando l'app di trebimeteo.com. Grazie a tutti.